Blocosfera al Miss Ex con Alessia Donati, ormai sempre su Blocosfera, abbiamo parlato un po' di tutto, di libri, abbiamo parlato dell'Olimpia, stasera che cosa ci racconti? Stasera vi racconto di Alessia Donati, che è qui, è contenta perché fa gli anni, ha appena ricevuto un complimento dal sottoscritto, che mi trova veramente in forma, vuol dire che allora più invecchio più divento bella. Quindi la cosa mi gratifica ancora di più. Insomma festeggi 22 anni alla grande oggi, no? Sì, per gamma no perché sono un po' troppi, per una gamba e mezzo sì. Senti abbiamo fatto una bella intervista sul tuo libro, torniamo un attimo a parlarne come sta andando e soprattutto se, visto che ci avevi detto che avevi già una mezza idea di fare un secondo capitolo, se già l'hai messo in cantiere. Allora la mezza idea è diventata un'idea, si sta lavorando, però come tu pensai bisogna sempre trovare l'attimo giusto al momento giusto, come un po' il treno, no? Che se passa una prima volta e non ci salti sopra il volo poi, ma prima che ripassi, però si sta lavorando, pian pianino si arriva alla meta. Va bene, allora in bocca al lupo e buoni sex. Crepi il lupo, venite tutti perché qua ci si diverte veramente tanto. Un bacione speciale a tutti gli amici di Blogosphere.